Dopo l'esplosione di Forcella torna prepotente il tema dell'abusivismo e dell'illegalità nel fittare i posti non adibiti ad abitazioni. Dalle 100 alle 150 euro al mese per affittare un basso o un sottoscala, un mercato radicato da tempo tra i vicoli del centro storico, mercato a cui spesso ricorrono immigrati, lavoratori in nero e disperati. E c'è chi lucra sulle loro condizioni di vita precarie. Con utenze abusive, acqua, luce e gas, tutto si regge sugli allacci non in regola, come sta emergendo anche nel corso dell'inchiesta condotta sull'episodio accaduto sabato notte in Vicopace a Forcella. Tre cittadini dello Sri Lanka rimassi feriti dallo scoppio di una bombola di gas mentre provavano ad allestire un punto cottura all'interno di un sottoscala. Inchiesta per disastro colposo al lavoro il PM Valentina Rametta sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Antonio Ricci in un'inchiesta destinata ad ampliare gli orizzonti. E infatti presto nella zona di Forcella verrà portato avanti una sorta di censimento per quantificare il fenomeno dei bassi affettati da extracomunitari. Una mossa strategica che viene condotta grazie al coordinamento del prefetto Michele Di Bari che sul caso di Forcella ha deciso di andare a fondo per portare alla luce tutti i fenomeni di illegalità presenti in zona.